Oggi prepariamo biscotti, non solo un tipo ma ben tre tipi di biscotti per tutti i gusti anche in versione salata e senza uova, quindi adatti anche a chi è intollerante alle uova oppure segue uno stile di alimentazione vegano. I biscotti che ti propongo oggi sono tutti facilissimi da fare e pronti in circa 20 minuti, quindi se vuoi gustarti qualcosa di buono senza glutine e latticini puoi stare tranquilla perché non dovrai passare tutte le tue giornate in cucina. Il nostro scopo è proprio quello di farti risparmiare tempo così potrai dedicarlo alle cose che ami di più. E allora partiamo subito con le ricette. Per la prima ricetta ho deciso di preparare dei biscotti a base di fiocchi di quinoa, banana e uvetta. In una ciotola ho unito 130 grammi di fiocchi di quinoa, 50 grammi di farina di quinoa, 30 grammi di semi di chia, 50 grammi di semi di zucca, 100 grammi di uvetta, 5 grammi di bicarbonato e ho mescolato il tutto. Per questi biscotti puoi anche utilizzare farina e fiocchi di grano saraceno. In un piatto ho unito 200 grammi di banane ben mature, 30 ml di latte di mandorle e 80 grammi di burro di mandorle. Ho mescolato bene il tutto fino ad ottenere un composto cremoso, dopodiché l'ho unito al resto degli ingredienti e ho mescolato il tutto. Ho creato i biscotti con le mani leggermente inumidite e li ho riposti in una teglia con carta da forno. Con queste dosi ho ottenuto 14 biscotti, se li farai più piccoli ne otterrai di più. Ho infornato i biscotti nel forno statico a 180 gradi per circa 25 minuti. Gli ho sfornati una volta dorati e li ho fatti raffreddare completamente prima di gustarli. Per la seconda ricetta non potevano mancare i biscotti al cioccolato, veramente golosi se anche voi amate il cioccolato. In una ciotola ho unito 80 grammi di farina di quinoa, 25 grammi di cacao amaro, 5 grammi di bicarbonato, 50 grammi di gocce di cioccolato e ho mescolato il tutto. Poi ho unito 100 grammi di burro di mandorle insieme a 170 grammi di purea di mele, che potete ottenere frullando una mela media. Quindi ho mescolato il tutto e ho unito il composto al resto degli ingredienti. Infine ho aggiunto anche 40 grammi di zucchero, che però si può tranquillamente omettere. Ho creato i biscotti sempre con le mani inumidite e li ho distribuiti in una teglia con carta da forno. Con queste dosi ho ottenuto 10 biscotti. Alla fine ho decorato con della granella di mandorle. Ho cotto i biscotti nel forno statico a 180 gradi per circa 20 minuti. Una volta sfornati, li ho fatti raffreddare completamente prima di gustarli. Per l'ultima ricetta ho realizzato dei semplici biscotti salati di riso, aglio, olive, origano e aglio. In una ciotola ho unito 150 grammi di farina di riso, 5 grammi di bicarbonato, un cucchiaio di origano, un pizzico di sale, 40 grammi di olive verdi, un cucchiaino di aglio in polvere e ho mescolato il tutto. Poi ho aggiunto 35 ml di olio vegetale a piacere, 95 ml di latte di mandorle non zuccherato e ho mescolato il tutto fino ad ottenere un panetto molto morbido. Ho creato i biscotti con le mani nuovamente inumidite e li ho disposti su una teglia con carta da forno. Con queste dosi ho ottenuto circa 11 biscotti. Ho cotto i biscotti nel forno statico a 180 gradi per 20-25 minuti. Quando si parla dei biscotti io non mi tiro mai indietro, infatti sono sempre alla ricerca di nuove idee, quindi ora sono curiosissima di sapere quali sono i tuoi biscotti preferiti. Lasciami pure le tue idee qua sotto nei commenti e io sarò felicissima di provarle. Ti ricordo che le ricette presenti nel video di oggi potrai trovarle scritte sul nostro sito www.videoricettepergruppisanguigni.com. Per oggi è tutto, ora ti saluto e vado a gustarmi un biscotto. Ah, ricordati di condividere il video. Alla prossima!